stazione di chiari spero onde bisogna farlo arrivo ad Addis Abeba Addis Abeba Addis Abeba Mecca Square ginnastica Mecca Square sempre è possibile arrivo a Mecca Square domenica mattina qui Addis Abeba Addis Abeba tutti a fare ginnastica qua i taxi di Addis Abeba giungo a Kilo Square giungo a Trinity Church Addis Abeba all'interno della Trinity Church Addis Abeba non è possibile sono all'interno della Trinity Church un effetto incredibile come la panani stupenda Trinity Church seduti della chiesa addis Abeba momenti incredibili sempre è possibile giaccati di monumenti ascoltare i consigli di Gino presenti ci sono anche le mosche Addis Abeba addis Abeba tieni sempre a mente i consigli di Gino presenti quando sciagli il taxi tieni a mente braghine onde paranchine pronte giungo a San Giorcathedra giungo a Plazza la festa di San Giorc Church e io fateci buona festa qui a San Giorcathedra mi sapeva incredibile e proprio per me oggi è una grande festa questa è l'Etiopia è una grande festa ma è possibile giungo a Addis Abeba giungo in Etiopia Addis Abeba incredibidente quando si sceglie un taxista la festa domenica Addis Abeba addis Abeba addis Abeba addis Abeba addio saluto quindi la cattedra di San Giorgio square church di San Giorgio quando si sceglie un taxista ricordarsi sempre il viaggio vicino Perenti braghine onde palanchine pronte è il monumento ai comunisti qui Addis Abeba Etiopia teatro nazionale il mio taxi monumento al leone momenti indimenticabili museo del terrorismo di e un'unica un'unica se si arrivi qui ci Grazie.